Il tema della sanità in queste ore torna prepotentemente in primo piano. Il tema riguarda non solo la diatriba tra Fano e Pesero, ma anche tutto l'entroterra, dopo che il 1 gennaio l'Asur regionale ha reso operative le determine che depotenziano gli ospedali delle zone interne, eliminando di fatto il pronto soccorso. A Fano, ad accendere gli animi, non è solo la ventilata ipotesi di perdere il punto nascita, che ricordiamo essere il terzo delle Marche e che per collocazione geografica più strategicamente funzionale rispetto a Pesero, ma anche le dichiarazioni del sindaco di Fano Massimo Seri dei giorni scorsi che asseriva di voler uscire da Marche Nord se ciò fosse avvenuto, accusando l'amministrazione Auguzzi per questa scelta errata. Ma su quest'ultimo punto la tua Fano e l'ex sindaco la pensano esattamente all'opposto, dichiarando senza mezzi termini che la sanità nelle Marche è questione del PD e che quattro anni fa, quando Fano entrò in Marche Nord, c'erano accordi di sviluppo dei due nosocomi in vista di un ospedale unico di pari dignità, accordi ampiamente disattesi come dimostrano le ultime vicende. Pediatria portata completamente a Pesero, chirurgia portata completamente a Pesero, urologia portata completamente a Pesero, ortopedia portata completamente a Pesero. Adesso si comincia a discutere anche del punto nascita, ecco io credo che l'uscita fatta dall'altro giorno dal sindaco sia del tutto tardiva e anche fuori luogo, perché è inutile lui oggi che minaccia l'uscita da Marche Nord. Intanto non decide lui se si esce da Marche Nord, sarebbe secondo me dannoso, e invece è importante che lui si faccia rispettare di più, soprattutto dal partito democratico, dal sindaco di Pesero e dal presidente della regione, che vogliono privatizzare la sanità di Fano a favore di quella di Ancona e di quella di Pesero. Questo non ci sta assolutamente bene, non era assolutamente questo l'accordo fatto dalla mia amministrazione, con la loro assessore regionale e con la loro sindaco di Pesero, pretendiamo, come lista civile della tua Fano, che l'attuale amministrazione porti avanti con forza le istanze della sanità fanese della nostra città e del nostro territorio e non sia solo appannaggio del PD questa scelta nel completo silenzio del nostro sindaco. Ci aspettano giorni caldi, quindi a cominciare da domani ad Urbino, dove è stato convocato un consiglio straordinario e urgente di tutta l'area vasta, indetto dal sindaco Gambini con i sindaci dell'entroterra sul sentiero di guerra, per chiedere con forza di bloccare la 735 e le determine quanto meno fino al parere della commissione regionale, attesa per il 13 di gennaio. È in vista anche una manifestazione di protesta sotto casa di Ceriscioli, organizzata dal presidente del fronte di azione popolare Giacomo Rossi. Lunedì, inoltre, a Fano si terrà un consiglio comunale monografico sulla sanità, al quale parteciperà proprio il presidente della regione, Marche Luca Ceriscioli. Grazie. Grazie.